E' buono, è eccezionale, domani me ne vado, vado in Spagna, tengo un cugino mio là, ancora francesco? Io l'ho detto mille volte a te, non voglio assolutamente che vieni appresso a me. Stai zitto e mangio, è meglio. Vedete come fa? Ma parla in faccia o te ne vuoi andare, tu da solo. Io ti voglio stare vicino, ti voglio aiutare e tu mi dici che io devo stare qua, ma allora si strunzo. Stata tranquilla, Dea. Non mi fai paura, questo tono di merda come non lo usi? Dice una parola che ho piatto in faccia. Lo vuoi capire che se viene appresso a me, a casa tua non ci torni in più? E tu lo vuoi capire che io voglio stare con te e non ci voglio stare qua. Ne è un altro po'. Avvocato, lei non mangia? Alla prossima.